Ciao a tutti, sono Fabio Zonin. Volevo ricordarvi che il 18-19 aprile a Palermo si terrà la XXL Fitness Convention della FIF. Io avrò l'onore di essere fra i relatori il sabato sul convegno, con due relazioni, una sull'elemento per la forza e una sull'ipertrofia funzionale, e la domenica con una masterclass sui bilancieri, dove approfondiremo di dettagli parecchie alzate con i bilancieri, tra cui quella che segue. Grazie a tutti. Convegno e masterclass. Buona giornata a tutti. Rock and roll.